così pericoloso doveva essere espulso. È stato raggiunto da un provvedimento di espulsione da parte del questore, è stato messo in un CIE, è rimasto nel CIE per poterlo espellere una quindicina di giorni, l'espulsione non è stata fatta e il soggetto è tornato libero e abbiamo poi visto gli altri crimini e frati che sono stati commessi. Il dato drammatico è che l'espulsione nel nostro paese di soggetti pericolosi come questo non funziona e non funziona per una grave responsabilità da parte di chi ci ha governato e ci sta governando. Il processo di espulsione di soggetti pericolosi, di criminali pericolosi deve essere la regola che purtroppo non viene applicata e oggi siamo qui a commentare piuttosto queste tristi vicende. Questo è il dato grave, gravissimo che manca nella ricostruzione perfetta che avete fatto ma è un dato questo assolutamente non secondario e centrale. Ed è evidente che i cittadini non si sentano in questo momento protetti.